In questo video rappresenteremo il film Stichitta. E' come ero il investimento di Gioen? Ehi, un video con la riposte! Quella mia con i caffè! Tranquillo, giusto, giusto. Si iniziava con una cosa semplice. Dal punto A al punto B. Trattieni Gioen. E poi scatenava in lei una grande bandido spiro. Brrrr! Ehi! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Vageli! 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 Ve, ve. O prevail. Vageli! Vageli! Grazie. Vai a tavoletta! Quanto mi diverto! Ciao!